farfalle con pomodoro e zucchine vediamo insieme come preparare la cosa mettiamo in una casseruola i pelati aggiungiamo anche zucchina pezzi e spicchietto d'aglio unire un pizzico di pepe nero e aggiustiamo di sale per finire un filo d'olio e quindi siamo pronti per la cottura scoliamo il tutto coprite con il coperchio e lasciamo in cottura per circa 10-15 minuti comando la fiamma non deve essere troppo alta e il tutto con un mini pimer quindi trasferite in una padella aggiungiamo un po di acqua di cottura della pasta basilico mescolare in cottura per circa 5 minuti la pasta e saltare il tutto in padella piacere arricchite la preparazione con del parmigiano niente un piatto facile veloce provatelo e fatemi sapere